Bastardo! No, l'ho fatta la settimana scorsa e non è che posso fare tutto il settimane. Ho fatto tutto per il giorno zero questa settimana, finire che si stufa, mi dice cara, hai dato! No, lo faccio tra due settimane, altro concorso. Sto facendo dei video, proprio sono un'opera d'arte, col vetro pannato. C'è questo in mezzo? No! Bastardo! No, vaffanculo! No! No!